Andria, nel secondo dopoguerra, fu al centro delle cronache nazionali per la ferocia e la violenza di alcuni drammatici episodi, molti dei quali a sfondo politico. Tra i più cruenti certamente vi è il linciaggio delle sorelle Porro, che a 70 anni di distanza ria preferite forse mai rimarginate. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel 7 marzo 1946, quando una folla inferocita, adducendo come motivazione un colpo di fucile sparato su piazza Municipio, luogo in cui si sarebbe tenuto a breve un comizio dell'On. Giuseppe Di Vittorio, segretario della CGL ed esponente di spicco del PC, saccheggiò ed incendiò Palazzo Porro, situato di fronte a Palazzo di Città, e linciò con disumana violenza Carolina e Luisa Porro, di 54 e 76 anni, e ferì gravemente le altre due sorelle, Vincenza e Stefania, di 58 e 55 anni. Di quel tragico avvenimento si è parlato nuovamente ieri nel corso di un incontro tenuto presso il Museo Diocesano di Andria. I relatori sono stati lo scrittore e giornalista Federico Pirro, autore del libro Fame Violenta, il giornalista Riccardo Riccardi, autore del libro Una famiglia borghese meridionale, e Don Carmine Catalano, vicepostulatore della causa di beatificazione di Monsignor Giuseppe Di Donna, vescovo di Andria in quel periodo. L'efferato delitto è stato spesso inquadrato nella lotta di classe tra gli agrari andriesi e l'enorme mole di contadini, che dopo decenni, forse secoli, di vessazioni, rivendicavano con forza aumenti salariali e migliori condizioni lavorative. Alcuni autori di libri e scritti hanno persino analizzato il processo agli aguzzini delle sorelle Porro, puntando il dito contro una sentenza già scritta, che avrebbe rispecchiato solo ed esclusivamente gli interessi della classe agraria e avrebbe demonizzato l'intera classe condatina. Era un momento estremamente difficile. Il processo si esaurì nel 1948, cioè significa l'anno in cui ci fu l'attentato a Togliatti, l'anno in cui si sarebbe votato e si sarebbe stato lo scontro Democrazia Cristiana e Partito Comunista, quindi il periodo in cui successivo alla scelta della Repubblica, le prime votazioni appunto il 12 aprile, il 18 aprile. Quindi un clima che risentiva di una situazione difficile. Cosa c'entra la fame, la miseria, la povertà realmente presenti nella società andriese del dopoguerra con il picchiare, percuotere, trucidare ed uccidere due anziane donne, la cui unica colpa era quella di essere in una condizione economica privilegiata? Lo scontro tra la Chiesa e il Monsignor Di Donna e l'ideologia comunista che era imperante in quegli anni hanno acceso gli animi in maniera così forte, è uno scontro sociale, politico, economico ancora più sostenuto che ahimè ha causato questo grave, grave ciccio. Cosa c'entra la fame con l'asserragliare un vescovo, il compianto Monsignor Di Donna, in una chiesa e minacciarlo di morte? Lui nella sua azione pastorale ha voluto unicamente, come dire, impostare tutto sulla difesa della dignità umana. Non importa di quale parte fosse la persona schiacciata. E ancora, cosa c'entra la fame con l'accoltellamento di un giovane dell'azione cattolica? Cosa c'entra la fame con l'uccisione di un carabiniere colpito vigliacamente alle spalle mentre percorreva via Ferrucci? Cosa c'entra la fame col delitto di un giovane tranese, Giovanni Giannotti, ucciso a colpi di scure in piazza Municipio durante un comizio comunista? E ancora, cosa c'entra la fame col delitto di una ragazzina di 12 anni colpevole di essere la nipota di un ex fascista andriese? Andria, tra il 1945 e il 1946, è stata anche questo, con una parte consistente del partito comunista di allora che spesso sobillava gli animi resi già infuocati da condizioni di vita disumane causate dalla cecità e ancora dall'egoismo di molti possidenti andriesi.